Non si ferma la voglia di paternità di Hugh Grant, che si appresta a diventare padre per la quinta volta in appena sette anni. La sua compagna, la produttrice televisiva svedese Anna Eberstein, è infatti incinta. La coppia è apparsa alla cerimonia dei Golden Globe 2018, domenica 7 gennaio, con la Eberstein che ha lasciato intravedere il pancino. Secondo il Sun, è stata poi la madre di lei, Susanne Eberstein, a confermare la notizia ai media svedesi. Sono molto felice di avere un altro nipotino, ha riferito al quotidiano Autumn LaDette, dovrebbe mancare poco. Anna Elisabeth Eberstein si è presentata con il celebre compagno alla serata dei Golden Globe con un semplice completo giacca e pantaloni all black, in ossequio all'iniziativa delle star che hanno sfilato in nero per solidarizzare con le donne vittime di molestie e chiedere equità tra sessi nel mondo del cinema. Le rotondità dell'Eberstein erano evidenti, ma la coppia ha preferito non fare alcun annuncio sul red carpet. Per l'attore britannico 57enne la famiglia si allarga ancora una volta. Dopo una lunga relazione con Liz Hurley da cui non erano nati figli, Grant ha recuperato il tempo perduto in una manciata d'anni. Prima ha avuto due bambini da Tinglan Ong. Tanita, nata il 26 settembre 2011 e Felix, nato il 29 dicembre 2012. Peccato che, nello stesso periodo, il beluga amasse tenere il piede in due scarpe. Proprio nei mesi in cui la Ong era incinta, iniziava una relazione con Leberstein, che a settembre 2012 gli avrebbe dato il suo terzo figlio, John, riconosciuto ufficialmente solo nel 2014. Quello con Anna si è rivelato essere l'amore della sua vita, tanto che la coppia ha festeggiato la nascita della loro seconda bambina, quarto bebè per Grant, nel 2015 e ora si prepara ad accogliere una nuova vita. Chi se ne frega!